il polico il polico abbiate il rispetto adesso vengo subito a prenderti a schiaffi ce la ce la faremo a passare finalmente sto livello nessuno le dobbiamo fare per forza se non andiamo ora passiamo passiamo ragazzi organizzati 44 minuti avendo la sita e rotelle il divano non lo carico da solo se mi spingete andiamo vai ragazzi ci passiamo chi è che ha pettato malavente di nuovo qui al divano di qua chi è che prende il divano in punta arrivo qua qua no l'altro l'altro ok viene alla finestra la finestra la finestra si piaccia x ora ok grande lancio l'altro ok questo gli oggetti e vabbè adesso un bene non ti devi anche tu aiuto il frigo il frigo il frigo aiuto vieni qua stai vieni si no dobbiamo prenderlo giusto uno da una parte uno dall'altra ok vai schiaccia x sarebbe il quadrato cazzo dobbiamo lanciare finca c'è il letto ma adesso da prezzo è che hai asciugato no non esce da bordo non esce da la finestra tira tira vai ok riprendilo vai vai spacchiamo questo muro beh secondo me anche questo si spacca questo vetro qua è vetro ah è vetro e tira tira aspetta ok ora cerchio cioè schiaccia la x il quadrato sarebbe questa cazzo di sedia tira c'è schiaccia quadrato e l'altro qualche altro tasto mia non riusciamo a uscire con le ho bisogno di uno senza la sedia a rotelle per il letto ragazzi dov'è il letto prende il letto vai vai il letto il letto il letto il letto il letto di qua stai di qua di qua devi prenderlo in punta di prendere in punta ok schiaccia quadrato quadrato la x la x c'è il quadrato sarebbe del joystick e non va vai 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 no non ce l'abbiamo fatta no lo dobbiamo rifare di nuovo vabbè se schiacciate la y che sarebbe il triangolo vedete che cos'è c'è da prendere da nemmeno vediamo subito a letto allora ok distrutto tutto ok giriamoci x ora vai andy vai 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 dai col di manodani aspetta dalla finestra dalla finestra no dalla finestra L'altro va, prima l'altro No, 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 è partita Dai, che cazzo Ok Aspetta, fammi girare Aspetta, f*** Senti, è là che fa un cazzo No, ma no, sto sistemando tutto Ancora a te, c'è stato Ah, mi, che scemo Il frigo, il frigo, il frigo Ah, f***co, il frigo, il frigo Facciutti in mano, se Ah, no Stacchi la presa così Ah, vai, vai A te Eh, sci A culo, passiamo di qua, va E io vi dono una mano In mezzo ai coglioni Ti dà una mano Che cazzo Abibetabili, disabili Oh A metà state, a metà state Ok, vai 15 Stai, ci sono pacchi là Fora Ah, tra l'altro Ah, tra l'altro Ti chiede un po' io Ah, tra l'altro Barbecue è acceso Un minuto, un minuto 20, 21 Vai, vai, lascia Barbecue Ingeniare tutto il cavolo Poi c'è solo cura Arriva, arriva Tira, tira dalla fine No, dalla fine Salta, salta Ok, vai Aspettate che arriva C'è una valigia in mezzo alla strada C'è una valigia Pia la valigia Due oggetti, manca, lo dai 30 secondi Ce l'abbiamo fatto Ah, è fai in potere Ah, è grandissime Sistemate sono messe le cose Ti ando a vivere Bellissimo Guarda la roba dentro Come è legata bene Andiamo al secondo quadro Chi guida Palazzo Salame Vedi se riesci a trovarlo Non sono io stavolta Meno male Qua, qua Uh, questa è piena Porca puttana Il primo livello L'abbiamo passato Allora Ehi Qua viaggio io Ma come viaggio La qua dalla sede Dalla pizza sul tavolo Sarà da portare via Quanti via Vai Quanti 20 Un in più Mi chieda Dove passiamo questo letto Dalla No, bisogna spostare via La poltrona Ma dove è il camion Aspè, forse C'è C'è il vetro di qua Eh, di qua passi Aspettavamo a prendere con più Leggere Il mio Oh, poi cazzo Siamo cali Oh, le cose sistemate Per favore No, a cazzo Ma è questo rumore Che non capisco cos'è È Antonio Ah, è Antonio Ma c'ho da un momento Forse non si doveva prendere Perché non si rubita Ma beh, sicuramente Una cosa in più Questo si chiama furto Ma solo due minuti e venti Abbiamo No, due minuti e venti è oro Sarebbe sempre più berù Poi ci sta a bronzo Argente e bronzo Ma che è un tasto a pizze per la casa? Ti mangio sei di tizze Ti a me casa A me casa Stata a undici Tredici No, c'è ancora troppa roba Ah, le cose grosse Le cose grosse In due E cos'è rimasto di grosso? Ah, il letto e il divano Il tavolo fuori Tredici Peppe Viglia, quello lancia là la teglia Viglia, il divano ad angolo Non passerà mai Dai che ce l'ha fatto Viglia, dici a sette Ah, stai fintato, eh Dobbiamo farlo uscire Vai vai che ti spingo Vai 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 Il zangolare questo Ah, in chiama la porta A porta No, la porta No, la porta No, ho tirato giù tutto Scusa capo Scusa Non si parliamo mai È un po' di giù Che si è arrivato tu a Fazio È perché voi là Non sono entrati bene nel camion Non li conteggio Aiutami Minchia, si è incastrato qualcosa qua dietro ragazzi Dai possiamo fare il bronzo Guarda, guarda, guarda Minchia, sono andato a incastrarmi Che stefano dietro Ok Un minuto e mezzo Feria, feria, feria Cinque pezzi Tira, tira, tira 21, 4 Sì ma è sto tavolo che non È dentro, è dentro Lo tengo su io C'è rimasto Ok È dentro Qua dentro C'è una sedia Peppe gioca a pallone Dai dai Un minuto e venti Oh il frigo Il frigo, il frigo, il frigo Ha accesso Il frigo vuole smontare Un pallone C'è cazzo 24 Goll Ma la porta La porta me la posso prendere per giocare Dai, uno è un frigo solo, ma il frigo solo, ma Un minuto Dai Sì ma il problema che non c'è sta Dove cazzo lo mettiamo No, lo lanciamo Manciatelo Vai, vai No Vai, vai Entra sto cazzo di coro Vai Vai, vai No, la sedia fuori No, la sedia 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 Tolgo la tele Metti il frigo Vai, vai Vai No No, la sedia 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 Il tavolo Avete buttato Allora Prima le cose grosse Andiamo a mettere bella Agli angoli E poi le cose piccole si lanciano sopra Ok Se tu, se voi tenete in mano l'oggetto e saltate, potete saltare sui divani E' troppo forte Allora, le cose piccole, metto le, lascio No, mettiamo, prendiamo le cose piccole tutte fuori Eh, perfetto, dai Ma si carica di me che cambiano con le cose grosse Ok No, ma che tu, le robe piccole le metti vicino al camion a terra Allora, vai, io e Stefano, il letto, vai, se Passiamo Sì, sguardo Vai, vai Aspetta, è più brutta Cioè, avete lo tutto Sistema Ok Ho tutto la città che avete rotto Un po' di sindacione C'è il divano grosso Mi aiuta? La porta gli ho distrutturato Cioè, il divano me lo sto trascinando con la forza della sedia a rotelle Si ha portato la porta qui Beh, la porta mi ha portato Sì Occhio all'albero, vai, 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 vai Che gioco fuori di testa Mettiamolo bello diste a mano Che è un Tetris Vai, vai, spingito Bravo, bravo Un Tetris Senta Spingi Bravo Ok, vai Impresa Capone Il Tetris È stato Un minuto Dal record Dal dono Che è il Tetris E dai Il fritto Il fritto Che è pure grande Questo tavolo Mi aiuta Sì, siamo incastrati Lasciala, lasciala, Ste, ci penso io Il frigo Mi aiuta Il frigo Il frigo Il tavolo Lì non c'entrava il cazzo Ma c'è una tartarura Il cammino Quattro ore Due minuti e mezzo Tira, pronto Vai Ok Ok È andato a andare Diccio Siamo tutti oggetti piccoli Oh, sto tavolo Ma c'è che sta camminando dietro Ah, sta a farlo veramente Sì, tolto Due minuti Troviamo a farcela stavolta Alla grande Eh sì, perché avete ragionato meglio Avete messo il film con l'igrante Gira, gira tu Pronto Vai, tira Ok Elettrodomecici, raga Due elettrodomecici Ci sta pensando Stefano A sradicare le spine Poi ti credo che la lavatrice non va a casa Magari l'ha spostata uguale E di quattro 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 E dai Stavolta sì Quella tu Ah, un obiettivo era fare gol L'hai fatta Sì? Sì, era un trofeo Sì Devi stare a casa grossa Mamma mia E qua a doppio piano Quando arrivo con la rossa Vedi con la rossa Quanto è? In causa dei canessi Ora saranno più oggetti Quindi la cosa è ordinata 26 Unisempio di 9 28 3 in più Beh no Devo passare per forza di là Minchia il pianoforte c'è raga Mi aiuta Arrivo un attimo No, mi è caduto il vaso Porca miseria Trinità Lo chiamavano Trinità Il letto Dobbiamo andare a metterlo Di fronte Bello sistemato Il letto Il letto Arrivo Un minuto Se ho oggetti C'è una merda proprio Aspetta Tiralo da qua Non c'è la finestra Come si tira? Premi il triangolo Tieni premuto Capito? Ok Sei uscito No, non c'è la finestra Non c'è la finestra Ma è un minuto dai su mi c'è un divano ad angolo qua beh portiamo fuori la sedia ma il divano lo conta sempre come uno andiamo in girandola lascia un c'è una cominciata con la resi mi sono incazzato le volte di mano lascia andare ti conviene lasciare andare lo pieghiamo un po' e poi lo prendi lascia andare così mi senti disconnesso è uscito da parsec no ti vedo dentro no 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 devo andare ma è tre minuti ma è ancora lunga la strada c'è questo tavolo in cortile qua da prendere in due dieci pezzi c'è un tavolo fuori c'è un tavolo fuori c'è sto prendendo tutto il muro io un flipper mario è il letto aiuto poffa confusione in cielo ragazzi adesso abbiamo lanciarlo eh giralo così ok ora 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 vai vai dentro salvo vai 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 vado io il frigo che rompe i coglioni non c'è la gallina dai sei pezzi dai un minuto il frigo è un tavolo non ce la facciamo aspetta porto l'ultimo l'ultimo pezzo piccolo e torno no non ce la facciamo 30 secondi 40 secondi 5 pezzi 2 pezzi 24 vieni pe 20 secondi no non ci sta c'è una televisione buttata l'acqua 25 no non ce la facciamo fastard 26 guarda là per 5 secondi 26 è impegnativo questo questo è troppo impegnativo si ce ne stanno di pezzi grandi e c'è sempre troppo un po' convosione si eravamo anche solo tre che Stefano si è dovuto allontanare ok Stefano poi si fa lì la ditta ditta capone ok che non ce la facciamo Grazie.